Sono in partenza per gli European Master Games di Tampere, in Finlandia, le pallavoliste over 40 della società volley Usato Garantito, a cui il vice sindaco Jacopo Suppo ha formulato un grande in bocca al lupo a nome della città metropolitana di Torino, che da oltre un anno patrocina la loro attività. Le atlete dell'Usato Garantito sono giocatrici che hanno un passato agonistico importante anche in Serie A1 e sotto la mole hanno vinto il torneo over 40 degli European Master Games del 2019. Come hai visto le tue ragazze nelle ultime settimane? Le ho viste bene, fin troppo. Speriamo che non siano troppo entusiasti di andare in Finlandia in gita. No, sono tra virgolette, anche se ovviamente è un percorso amatoriale, loro sono tutte ex giocatrici di livello e quindi sarà una settimana professionale in cui daranno il meglio di loro e sono convinto che faremo bene anche in Finlandia. La nostra squadra rappresenta davvero tutto il territorio, abbiamo giocatrici che arrivano da tutta quella che si può definire la provincia, la città metropolitana, e noi stessi come società giriamo fra 4-5 paesi della provincia. Lei ha giocato in Serie A, che cosa ha significato in questi anni e significa adesso rimettersi in gioco e andare a partecipare a una manifestazione di livello continentale? Ma è sempre una bellissima esperienza, soprattutto perché la pallavolo è sempre stata la mia grande passione. Io ho giocato praticamente per 40 anni a livello agonistico di un certo livello e quindi tornare sui campi da gioco a difendere comunque il titolo che abbiamo conquistato nel 2019 è un motivo di grande orgoglio. Avete fatto scuola, nel senso che avete invogliato in questi anni, dopo il titolo europeo over 40, altre donne a rimettersi in gioco e a tornare a giocare a pallavolo. Sì, è una bellissima cosa perché stiamo dimostrando che l'età è relativa ovviamente con tutti i nostri acciacchi e con l'organizzazione del caso, però quando c'è la passione, quando ci si ritrova oltretutto c'è sempre lo stesso entusiasmo nel ritrovarsi, nell'andare in palestra ed è un modo anche per mantenersi in forma. Rispetto a quando lei giocava nel massimo campionato, cambia qualcosa nella vostra preparazione? Diciamo che l'attenzione è più di tipo conservativo, perciò stai molto attento a preservare e a non farti male soprattutto, quindi c'è sempre una preparazione di tipo fisico per mantenere le articolazioni sani, i muscoli che preservano tutto quanto. E in più cerchi con l'esperienza di compensare quello che non riesce più dal punto di vista prettamente fisico, quindi ovviamente siamo meno veloci, meno scattanti, però l'esperienza aiuta a colmare questo genere di lacune.